ciao amici watching time benvenuti ad un nuovo episodio assieme oggi voglio parlare di questo orologio il Moels & Co 369 che è stato prestato al canale per fare una recensione prima di tutto due parole su Moels & Co è un brand di circa 2-4 anni di vita abbastanza recente questo è il loro secondo modello il loro primo modello il 528 aveva un design molto particolare con una cassa diciamo a televisione squadrata rettangolare non centrata e questo lo rendeva molto particolare ma aveva già attirato il mio interesse ora sono usciti con questo nuovo modello che è un bracciale integrato quindi si rifà a tutti i bracciali integrati che ora vediamo spesso proposti dai brand maggiori ma anche dai micro brand ma ha un suo sapore tutto particolare e lo andiamo a vedere assieme mi sono fatto mandare dell'orologio perché avevo pensato di comprarlo ho detto qual è migliore occasione di vederlo così posso anche posso comprarlo ma anche parlarne con gli amici del canale l'orologio ancora in fase di preordine quindi c'è ancora uno sconto ma parliamo del prezzo più tardi perché ovviamente il prezzo è sempre una cosa importante l'orologio è swiss made ha un movimento svizzero al suo interno e come vedremo ha delle ottime qualità delle ottime caratteristiche purtroppo non mi è stato inviato il bracciale che siamo bracciali interessante ovviamente integrato anche di qualità con una classe di qualità è stato inviato solamente questo cinturino di pelle di buona fattura penso sia fatto da hirsch con anche degli adattatori per il cinturino in modo da poter utilizzare un altro cinturino non solo quelli con l'attacco proprietario in questo orologio questo mio cinturino che è difficile avere un match per questo tipo di quadrante quindi ho messo questo e dopo vedremo un attimo come sta alla fine ma intanto volevo far vedere un po nella sua veste più classica ma andiamo a parlare dell'orologio prima di tutto le misure stiamo parlando di una cassa di 39 mm per 46,5 per 12,5 di spessore l'orologio ha 200 metri di resistenza all'acqua ed ha una corona vite e anche un fondello a vite la cassa ha questo aspetto particolare perché ha un aspetto un po tonno come vedete sembra un po un rettangolo però al suo interno ha questo secondo livello che la rende più una cassa a cuscino vedete che c'è come uno scalino un gradino all'interno della cassa che forma questo cuscino questo squadratura al suo interno la corona non è logata ma è di buona fattura interessante come si integra un po retro un po cipolla con la cassa il fondello a vite abbiamo detto con 369 che è il nome del modello e ha questa finitura particolare che a me ricorda molto l'automotive sembra il cruscotto di alcune macchine o simili o perlomeno a me come vedete in realtà è trasparente è un vetro semplicemente con questa finitura e al suo interno sembrerebbe che altre varianti di colore si può vedere la massa oscillante con un colore a contrasto al suo interno in questo caso penso che sia grigia normale color acciaio e quindi non si vede realmente il fondello poi riporta le caratteristiche dell'orologio muore sempre in nome del marchio designer bettina menesca che la designer e anche la fondatrice di questo brand e water resistant 200 metri come aveva detto sui scali per 316 l andiamo però a vedere un po il quadrante e tutto l'insieme dell'orologio il quadrante caratterizzato questo è luca settori che caratterizzava anche il loro modello precedente di morse come e questi blocchetti di pasta luminescente tutto attorno a segnare le ore dopo vedremo nella prova al buio come particolare anche le sfere sono poi hanno poi questo look minimal ma molto particolare anch'esso con tutte le coperte di pasta luminescente visto che è tutto particolare in questo orologio abbiamo poi il marchio moes scritto in verticale e presentatore 6 che è una cosa raramente vista la cassa ha un design soprattutto spazzolato in quasi tutte le sue parti tranne degli inserti lucidi lucidati che vedete dove ci sono queste transizioni le transizioni tra le facce e la transizione tra lo scalino tonno e quello cuscino superiore il reo interno non si vede perché come detto nascosto dai blocchetti di pasta luminescente il bracciale è integrato in questo caso abbiamo il cinturino metà il cinturino di pelle e che parte circa da 22 millimetri qui e si va a restringere a circa 18 ha una una fibbia da reglione che non è logata non so se questo verrà cambiato come dicevo il cinturino di buona fattura penso fatto da irsch quindi un brand abbastanza importante di cinturini il bracciale ha un design particolare anche questo dovrebbe restringersi e anche una fibbia di quelle con regolazione rapida andiamo ora a fare una prova al polso e poi a vedere la prova lume ecco qua l'orologio sul mio polso che vi ricordo di essere di 16 centimetri quindi un polso piccolo l'orologio sta bene il l'essere a un bracciale integrato quindi non avere anse lunghe ma avere il cinturino che entra completamente nell'orologio lo rende portabile per tutti i posti poi la distanza dalla stanza 46,5 quindi non una grande distanza aiuta a renderlo portabile però come sempre una cassa come questa una cassa tonno riempie di più il polso rispetto che le classiche casse tonde ecco qui l'orologio con l'adattatore ovviamente se il cinturino non vi piace non c'è niente da dire perché un cinturino mio quindi non è uno di moes ma andiamo a vedere com'è l'orologio con questi adattatori come vedete gli adattatori puntano in basso quindi si vanno vanno ad abbracciare di più il vostro polso e potrebbe essere che condividono il primo link con il bracciale la cosa che secondo me un po' manca è che come vedete sono fissi c'è un minimo di gioco ma il gioco è dovuto solo al materiale non non si muovono sulla cassa si integrano ovviamente perfettamente ma non sono mobili sulla cassa ma non penso siano un problema vanno un po' fuori quindi siamo oltre i 50 mm ma come vedete non non sporgono molto rispetto al limite inferiore dell'orologio eccoci qua nella prova notturna come vedete l'orologio ha un'ottima visibilità presenta di questi blocchetti diciamo di passa luminescente a segnare le ore da davvero un aspetto particolare all'orologio molto futuristico mentre la cassa da quasi delle vibrazioni retro questi blocchetti lo rendono un orologio futuristico come dicevo anche le sfere sono completamente in passa luminescente purtroppo in questo caso è meno passa luminescente quindi vanno un po' a sparire in fretta certo non è il tipo di orologio anche se bracciale integrato 200 metri un orologio sportivo non è un diver quindi lo possiamo anche accettare comunque abbiamo questo effetto interessante e particolare eccoci qua che dire di questo orologio mi ha certamente incuriosito non si vede spesso una cassa così particolare e in generale tante cose assieme anche belle questi blocchetti luminescenti mi sono piaciuti molto le sfere hanno un design coraggioso e bello con la pasta luminescente nuovamente mi è piaciuto la corona ha anche questo aspetto un po' a cipolla bello e bello il fondello con questa vibe ripeto per me da automotive l'orologio mi è piaciuto per me qualcosa di più sul quadrante si poteva fare perché questo quadrante a settori è interessante ed è interessante se vedete nel dettaglio come la spazzolatura di questi quadranti metallici però per me qualcosa di più poteva essere fatto perché il manca un po' di mordente forse il il quadrante io non ho scelto il colore anche se devo dire che viola è un colore che mi piace molto e in generale è un colore che valutavo per per l'acquisto altri colori vedete nelle diverse varianti ci sono alcuni molto estivi e altri invece più decisi con dei contrasti forti nero oro grigio rosso quindi contrasti forti forse ti rende più ancora più allettanti visto che c'è questo contrasto colori più particolari certo anche il viola come detto questo non mi ha convinto pienamente e poi mi spiace davvero di non aver visto il bracciale perché quando si prende un un orologio bracciale integrato il bracciale a momenti vale tanto che l'orologio cioè come il bracciale si entra nella cassa è una grande determinante del del valore della pil dell'orologio stesso ma parliamo di prezzo l'orologio è spedito dalla svizzera perché è fatto in svizzera ma il brand è di londra è un brand di uk quindi i prezzi sono in pound inglesi il prezzo ora in questo momento che sto registrando il video che siamo a giugno inizio di giugno 24 è 800 sterline quindi oltre 900 euro in preordine 900 erotti 940 dipende dal dal cambio spedito alla svizzera quindi dovete aggiungerci un 22 per cento di iva più dazi io dico sempre calcolate circa 25 per 900 e fatela facciamo la finita di conseguenza si va da 900 erotti a mille milledue praticamente quasi quasi milledue mille centocinquanta con i dazi il prezzo dopo la fase di preordine sarà mille cento pound che quindi si è sui mille trecento euro anche lì con l'importazione quindi si è circa sui mille 600 alla fine mille cinquecento erotti mille seicento è un prezzo altino perché un prezzo altino perché per i micro brand storicamente ci siamo abituati a spendere meno per i micro brand ci siamo abituati a spendere meno di mille euro questo è un orologio che vale più di mille euro è un bello orologio e il prezzo è ovviamente comprensivo del bracciale metallo e degli adattatori ora lo state vedendo in completo perché comunque sappiamo che il bracciale metallo come niente costa 200 euro anche quello di strap code quindi anche un bracciale generico a un prezzo e tanto più quando è un bracciale integrato ha un valore è una proposta di prezzo da considerare non per niente me lo sono fatto inviare per decidere se acquistarlo o meno come serve vi ringrazio di essere stati con me come vedete le mie recensioni e le nostre recensioni in generale sono unbiased perché recensiamo cose che ci siamo comprati o cose che non ci sono state regalate e quindi avete un'opinione completamente sinceramente sincera da parte nostra vi ringrazio e ci vediamo alla prossima ciao